Si potenzia l'offerta formativa del Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula, che si conferma istituto scolastico all'avanguardia e sempre attento ai progressi scientifici e tecnologici. Dal prossimo anno scolastico 2025-2026 partirà il nuovo indirizzo di scienze applicate con curvatura scienza dei dati ed intelligenza artificiale, andando ad implementare ulteriormente la già ricca offerta formativa che punta a sostenere gli studenti nel loro percorso di studio, formandoli anche in base alle loro inclinazioni oltre che alle loro passioni, al fine di favorire un approccio al mondo universitario più semplice e con basi stabili, che dunque ne renderanno più semplice il percorso di studio. Una novità assoluta per la parte a sud della provincia di Salerno, essendo l'unico istituto di istruzione superiore a cui è stato concesso il nuovo indirizzo. Un percorso lungimirante e pionieristico per il territorio del Vallo di Diano, che prevede un dettagliato piano di studi, che si concentra in particolare sulla formazione tecnologica avanzata e sul potenziamento dell'informatica. Inoltre sono previste attività laboratoriali in collaborazione con altri istituti del territorio, oltre che con l'università. Il percorso di studio prevede anche approfondimenti focalizzati sul metodo di ricerca, un piano di studi multidisciplinare anche per l'ingresso del diritto e di economia, laboratoriale, seminariale e con formazione sul campo. A breve prenderanno il via gli Open Day del Liceo Scientifico Pisacane, nel corso del quale gli studenti del terzo anno delle scuole secondarie di primo grado potranno confrontarsi con i docenti per meglio approfondire i dettagli del nuovo corso di studi di scienze applicate con curvatura scienza dei dati ed intelligenza artificiale. Coloro che sceglieranno il nuovo indirizzo acquisiranno competenze significative nell'ambito della robotica, della realtà virtuale aumentata, della statistica, dell'analisi di immagini e video, ossia computer vision, e dell'elaborazione del linguaggio naturale, natural language processing. Ciò consentirà loro di proseguire nella formazione universitaria, potendo contare su competenze già ben radicate, in particolare per ciò che riguarda eventuali percorsi di studio in biotecnologie, data science, internet of things, big data, machine learning e artificial intelligence, oltre che in scienze informatiche e ingegneria informatica. Un indirizzo che potrà anche contare sul supporto della Rete Nazionale dei Licei Scienze e dei Dati e Intelligenza Artificiale. Ampliare la proposta formativa in questa direzione, ha dichiarato la dirigente scolastica Marilena Vigiano, significa offrire alle nuove generazioni gli strumenti per affrontare il futuro. Scienza dei dati e intelligenza artificiale sono le nuove chiavi di lettura nell'interazione uomo-macchina.